La Polizia Postale di Reggio Calabria e Catanzaro ha denunciato un dipendente della società aeroportuale calabrese di La Mezzia Terme che utilizzava gli impianti della SACAL per estrarre criptovalute. L'uomo, attirato dal miraggio dei guadagni ferenti le nuove opportunità della tecnologia informatica, aveva approfittato della sua posizione lavorativa all'interno dello scala aeroportuale di La Mezzia Terme per istarrare un malware e sfruttare l'infrastruttura informatica della SACAL SPA che gestisce gli aeroporti calabresi per estrarre, ovvero produrre moneta virtuale mettendo in pericolo la sicurezza degli impianti. L'uomo è stato arrestato e sarà processato per direttissima.